Dopo settimane di scontri istituzionali e di proteste da parte dei partiti di opposizione, stamattina le commissioni consigliari del Consiglio regionale hanno proceduto al rinnovo dei propri organi direttivi, una procedura prevista dall'articolo 29 del Regolamento dell'Assemblea che prevede un rinnovo a metà legislatura. Si è arrivati alla conferma dei presidenti di cinque commissioni su sei. L'unica a cambiare presidente è stata la quarta commissione, governo del territorio, ambiente, infrastrutture e mobilità, che ha visto l'elezione di Giuseppino Pinna dell'Udc al posto di Antonio Solinas del PD. Tutti confermati i presidenti delle altre commissioni, Francesco Augusto di Serre, rimane al vertice della prima commissione autonomia e ordinamento regionale. Gavino Manca del PD è stato confermato alla guida della seconda commissione lavoro, cultura e formazione professionale. Alla terza commissione programmazione, bilancio e politiche europee è stato confermato Franco Sabattini del PD. Confermati anche i vertici della quinta commissione, attività produttive, col presidente Luigi Lotto. Infine alla presidenza della sesta commissione salute, politiche e sociali, rimane il presidente Raimondo Perra. Il partito dei Sardi non ha partecipato alla votazione. Questa è la spiegazione del consigliere Roberto Desini. Quanto accaduto nel referendum evidentemente non è servito. Ancora una volta non si riesce a cogliere ciò che sta avvenendo fuori dai palazzi della politica. Il partito dei Sardi non ha partecipato al voto perché non condivide il modo di procedere alla maggioranza. Le commissioni sono scadute a settembre e da allora abbiamo chiesto inutilmente la convocazione di un vertice di coalizione per individuare un percorso condiviso che portasse alla definizione dei nuovi assetti degli organismi consigliari. Così non è stato. Siamo contrari alla scelta di conservare lo status quo, conclude Desini. Di fatto significa congelare il rinnovo delle commissioni con la conferma dei precedenti uffici di presidenza.